121 al triste spettacolo degli scandali avevo sperato che quella telefonata mi distraesse e invece mi riavvicinava alla mia morte lenta e invincibile non mi liberavo di lei nemmeno parlando con i miei parenti come una vecchia febbriciattola mai assopita immaginavo che cosa avrebbero detto nel mio paese se fosse scoppiato uno scandalo attorno al mio nome lì ero considerato qualcuno nota 495 se fosse scoppiato uno scandalo per giungere alla sobrietà è necessario passare per l'ebrietà così assistiamo al triste spettacolo degli scandali che si leggono ogni giorno contemporaneamente però dall'intimo di molti sale un bisogno sempre più potente quello di una società più pura più onesta più retta e un giorno un numero sempre maggiore di individui comprenderà che questo bisogno può essere soddisfatto solo se la media delle persone che vengono a conoscenza degli scandali comincerà ad essere più pura più onesta più retta no 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 mmmm